L'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi, nelle azioni di orientamento rivolte agli studenti delle classe quinte per la scelta dell'istruzione terziaria e per entrare nel mercato del mondo del lavoro, ha aderito al progetto Alfabetizzazione promosso dal Rotary Club Roma Cristoforo Colombo in collaborazione con il Comune di Roma. La dottoressa Silvia De Mari ci ha dato la sua disponibilità nell'organizzare questo primo incontro che sarà un piccolo seme che sicuramente germoglierà in questo grande campo che è poi l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni italiane e soprattutto dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi. Oggi siamo qui presso il pregiatissimo istituto Garibaldi, un istituto che ci ha accolto per quanto concerne la formazione dei ragazzi del quinto anno e quarto che sono in uscita. Il Rotary Club attraverso le professionalità vuole orientare e dar forma a quelle che sono le professioni, per cui un orientamento sulle professioni del futuro, su un percorso di formazione al lavoro, formazione a quelle che sono altre attività oltre a quelle che conoscono attraverso gli atti pedagogici all'interno dell'Istituto Agrario stesso. L'attività sarà organizzata in micro seminari di formazione che esponenti del Rotary Club Cristoforo Colombo, esperti in comunicazione, marketing ed economia, leadership e legalità, ristorazione e promozione turistica, terranno nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Siamo qui appunto nell'Istituto Garibaldi dando un contributo a questi ragazzi facendo conoscere quelle che sono le nostre professionalità nella speranza che questo possa poi aiutarli a decidere meglio del loro futuro.